La necessità principale delle nostre donne riguarda in questo momento la ricerca del lavoro, la possibilità di affermarsi nuovamente magari in un nuovo territorio, quindi è necessario che ci sia la collaborazione di tutti i settori che possano mettere nelle condizioni le donne di avere nuovamente una vita vera. Per quanto riguarda la prevenzione invece è decisamente importante che tutti quanti teniamo gli occhi ben aperti, a volte anche gesti piccolissimi o il piccolo consiglio, magari prova a telefonare al centro antiviolenza o cerca di farti aiutare potrebbe essere determinante per salvare la vita anche una persona.